Le pagine dell'ascesa al Monte Ventoso sono delle pagine che fanno parte sempre del florileggio di letture degli studenti di terza liceo. Questa è una lettera che parla di un'escursione in montagna, di una salita del poeta, una salita che è su un monte e che notoriamente era difficile da salire, che comportava non poca fatica perché evidentemente si tratta di un cammino ripido, erto e quindi che impone una certa difficoltà. Ne parla ad un amico che è un frate agostiniano Dionigi di Borgo Sansepolcro a cui Petrarca è legato evidentemente perché si rivolge a lui in tono confidenziale ed è fra l'altro un amico che le aveva fatto dono di un prezioso volume, il volumetto delle Confessioni di Sant'Agostino, che è un libro che Petrarca portava sempre con sé, come anche in questo caso viene espressamente citato. Non è semplicemente una salita in montagna perché subentra una lettura allegorica. Salire significa in termini allegorici riferirsi al cammino dell'anima verso la sua salvezza. L'anima che si eleva, che si innalza al di sopra delle cose terrene e che punta alla salvezza. E questo è un cammino che è un cammino accidentato, un cammino difficile, a cui si frappongono diversi ostacoli. Ecco dunque che l'espressione, l'immagine, il resoconto della salita sul Monte Ventoso, in realtà è una salita costellata di ostacoli, evidentemente è un modo per parlare dell'uomo che si eleva, dell'anima che si eleva e che punta alla sua salvezza. Dice all'inizio che aveva il desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza. Alla riga venti dice che abbiamo cominciato la salita è molto astento e l'amore del monte è assai scoscesa e inaccessibile. Ma c'è una cosa interessante, il diverso cammino, la diversa attitudine di Francesco e del fratello Gerardo con il quale effettua la salita. Perché Gerardo, che come noto prese i voti, anzi rispetto alla datazione della lettera che è data il 26 aprile 1336, Gerardo più avanti, qualche anno dopo prenderà i voti, si farà a Monaco, Gerardo sale diritto. Cioè Gerardo sale senza difficoltà. Come a dire che in Gerardo sono ben attive le virtù. Mentre invece Petrarca non sale, non ha la capacità di salire così direttamente come il fratello, ma cerca il cammino più agevole e cerca un percorso più piano anche se allunga la strada. E qual è l'effetto? L'effetto è che in realtà fa fatica per niente. Dice espressamente che l'inutile fatica lo stanca, si ritrova stanco e ansimante e soprattutto non solo non progredisce, ma addirittura è trascinato indietro, è trascinato verso il basso. Allora evidentemente ecco che mentre l'altro è più virtuoso e sale più agevolmente, Petrarca invece si sente affaticato. Si capisce dunque, fin qui, che non è soltanto il resoconto di un'escursione in montagna, ma il testo poi diventa anche un resoconto delle riflessioni che Petrarca fa sul tema dei cambiamenti che sono intercorsi nella sua vita una volta arrivato in cima. E questa scrittura da un lato è colloquiale perché si rivolge ad un amico e quindi con tutte le confidenze del caso, anche ben inteso che il destinatario sia l'amico ma anche il lettore di ogni epoca. E dall'altro invece vale la pena sottolineare come accanto a questo tono colloquiale ci sia una certa ricercatezza, il discorso si fa più sostenuto quando compaiono i riferimenti al mondo classico e soprattutto al mondo cristiano. Per cui questa conferma, il mondo classico e il mondo cristiano, ha conferma delle due nature, della doppia natura di Petrarca, da un lato è un uomo di lettere per formazione e dall'altro dal punto di vista spirituale è un uomo cristiano. Però va detto anche che Virgilio, Ovidio, la mitologia greca si cita il monte Athos, il monte Olimpio come esempi di altezze eccelse del mondo greco o anche la storia romana con riferimento ad Annibale che va lì con le Alpi, tutti questi elementi rinviano sicuramente al codice classico e impreziosiscono il testo, ne fanno più erudito il tenore. Ma bisogna anche dire che soprattutto più che i classici conta sicuramente la presenza di Sant'Agostino, l'autore delle confessioni, perché le confessioni di Sant'Agostino sono un resoconto della difficoltà che il cammino verso la fede ha comportato per Sant'Agostino. La conversione per Sant'Agostino non è stato qualcosa di immediato e nelle confessioni rende conto del suo cammino, delle sue incertezze, di ciò che lo ha trattenuto. Ebbene le confessioni di Sant'Agostino rappresentano per Petrarca un immediato supporto alla sua situazione psicologica, per quale ragione? Perché offrono come dire il corrispettivo dei suoi pensieri, gli offrono la sponda rispetto al suo incerto errare. Legge Sant'Agostino, ma lo legge addirittura, dice nel testo, come se quello che Sant'Agostino scrive fosse stato scritto per lui. Quando è in cima, apre a caso le confessioni e si imbatte in un passo del libro decimo, ribadisco apre a caso, lo ribadisce lui, eppure trova una frase che lo colpisce. Vanno gli uomini alla riga 86 a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, un po' come Petrarca, è salito, incantato, ammirato dallo spettacolo del paesaggio montano e trascurano se stessi. E trascurano se stessi e coglie un aspetto fondamentale che riguarda da vicino Francesco Petrarca come uomo, perché la sua oscillazione, ciò che lo trattiene, ciò che gli genera inquietudine, è proprio il fatto di la consapevolezza di essere forse troppo attaccato alle cose terrene. Le incertezze di Sant'Agostino coincidono con le incertezze di Petrarca e noi anche in questo testo ci misuriamo con l'oscillazione del suo animo. C'è un'espressione significativa alla riga 64, doppio uomo, cioè si definisce un doppio uomo. La doppiezza che cosa è dovuta? Al fatto che egli si senta diviso, in questa occasione, è sulla cima del monte ventoso ma trae un bilancio interiore, fa un esame di coscienza, egli si sente diviso tra quelle che gli definisce le passate turpitudini, cioè le esperienze del passato, che sono turpitudini perché così le interpreta nel presente. Turpitudini, turpis, in latino vuol dire vergognoso. Lui si vergogna come anche all'inizio del canzoniere, nel testo proemiale, lui prova vergogna per come si è posto, per quanta attrazione hanno esercitato su di lui le cose terrene. E queste turpitudini sono ricondotte dall'autore ad una volontà malvagia e perversa, dice la riga 61. Sono turpitudini per cui lui è stato in balia di una volontà malvagia e perversa alla quale tuttavia ora si contrappone una volontà che all'opposto è buona e che viene definita al 63 ribelle e contraria. Ecco che cosa significa doppio uomo. Significa un uomo che è dentro una battaglia, che ha una battaglia all'interno del proprio io, che è legata al fatto che tutto ciò che è esteriore, tutto ciò che appartiene al mondo terreno, in fondo valga ben poco. Valga ben poco perché lui è consapevole che è da stolti disperdersi in mille strade, in mille spettacoli, venendo distratti dal cammino verso Dio o dal timore dei patimenti o dall'amore dei piaceri. Da una parte c'è questo, la consapevolezza che facilmente ci si può perdere e dall'altro invece c'è l'idea che l'unico aspetto che valga la pena coltivare è quello della propria interiorità. Coltivare l'interiorità e non invece inseguire ciò che è al di fuori di noi. E allora si capisce e concludo che quello che per lui, quello che per il lettore, a prima vista, sembra un testo in cui centrale sia la fatica del cammino montano, in realtà è un testo che vira sempre più sull'interiorità, cioè sulle difficoltà del cammino interiore. E in questo riconosciamo Petrarca, l'uomo tormentato, caratterizzato, lo dice lui, dagli ondeggianti sentimenti. Da un lato c'è il mondo con le sue attrattive, quanto insiste in questo testo sull'ammirazione per il paesaggio montano, che anche qui c'è l'allegoria, l'attrazione esercitata dalle cose terrene, a cui è portato con viva forza. E dall'altro invece c'è l'idea che tutto ciò che è spettacolare, amirevole, ciò che piace al mondo, come dice nel sonnetto premiale del canzoniere, è bene tenerlo a distanza, cioè distaccarsene, prendere le distanze e quindi tenerlo lontano. Per quale ragione? Ed è l'ultimo dato, perché di fondo c'è sempre un pensiero di matrice cristiana, che sottolinea quella che, citando ancora il testo, la comune instabilità delle azioni umane. L'uomo è una creatura precaria, tutto quello che gli accade è effimero, non ha valore e rispetto a questo dunque bisogna appararsi, bisogna essere consapevoli che corriamo un grosso rischio. Di questo parla Petrarca, che è quella che lui definisce l'altezza del pensiero umano, rischi poi di affondare nel fango delle turpitudini terrene. E quindi questo testo è esemplare perché ci rende conto di questo rischio di affondare, da cui Petrarca vuole guardarsi, ma che è incapace di mettere in atto fino in fondo come proposito, è anche incentrato sul tormento che simili pensieri gli provocano. Una parte ultima molto interessante, da cui possiamo partire adesso nell'analisi, è sicuramente quella delle righe 50-60, in cui in particolare il poeta si concentra sull'esame di coscienza e considera quelli che sono i cambiamenti che sono intercorsi, ma quello che interessa è rilevare le oscillazioni. E chiudo leggendo questo testo. Troppi sono ancora gli interessi, 54, che mi producono incertezza e impaccio. Ciò che ero solito amare non amo più. Mento, lo amo, ma meno. Ecco, ho mentito di nuovo, lo amo, ma con più vergogna, con più tristezza. Finalmente ho detto la verità. È proprio così. Amo, ma ciò che amerei non amare, ciò che vorrei odiare. Amo tuttavia, ma controvoglia nella costrizione, nel pianto e nella sofferenza. Ecco, queste sono righe centrali perché afferma, poi dichiara di mentire, quindi si smentisce, e poi finalmente arriva, ma con quanta fatica, ad affermare quella che è la verità. È quella cupa volutà, quel cupo piacere, di cui parla nel testo del Secreto un dedicato all'accidia, quando parla di disperata volutà. È qualcosa che gli toglie speranza rispetto alla prospettiva della salvezza, ma che d'altra parte lo attrae fortemente. Grazie. Grazie.